GF VIP, Daniele fa preoccupare George, non guardare io sono ad un passo dalla morte. Al grande fratello VIP Daniele Dal Moro è stato ricoverato d'urgenza nella notte scorsa. Fatto che è emerso durante una discussione con Edoardo. I concorrenti presenti in cucina sono rimasti in silenzio. Spiazzati dalle parole del compagno di reality. Successivamente, Dal Moro ha parlato con George. Dandogli dei consigli preziosi su come affrontare questo percorso, ma pronunciando una frase che ha spiazzato sia lui che i telespettatori a casa. Nella giornata di ieri, Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria hanno avuto una discussione in cucina. Daniele ha rimproverato Edoardo di non rendersi conto dell'atteggiamento di Antonella, poco trasparente nei suoi confronti. Edoardo ha preso le difese di Antonella, facendo infuriare ancora di più Daniele. Che si è sentito inutile e messo da parte. Dal Moro ha poi fatto calare il gelo dicendo di essere stati ricoverato d'urgenza nella notte, ma omettendo il motivo. Il concorrente si è limitato a dire si aver passato una notte molto difficile e di essere andato a letto alle 9 e 30 di mattina. A fare chiarezza sul motivo del ricovero di Daniele Dal Moro ci è pensato il portale Bici. Secondo indiscrezioni, pare che il concorrente abbia avuto un forte attacco di panico dopo la diretta del Grande Fratello Vip. Daniele non ha mai fatto mistero di soffrire di forti attacchi di ansia, che lo costringono purtroppo a ricoveri. Ne ha parlato sia in una precedente puntata del Grande Fratello Vip in diretta che in diverse interviste nei salotti di Barbara D'Urso. Dal Moro ha poi parlato con Giorgio e una sua frase ha di nuovo fatto preoccupare seriamente i telespettatori. Nelle ultime ore, Daniele e Giorgio si sono confrontati sul modo migliore di affrontare questa esperienza. Giorgio ha detto di ammirare molto l'amico, che si espone sempre in ogni occasione, al contrario suo. Ma ecco che Daniele l'ha raggelato con una frase che non è passata e inosservata ai telespettatori che stavano guardando la diretta H24 del GF Vip, Non guardare me, io sono ad un passo dalla morte. Daniele ha poi consigliato a Giorgio di esprimersi di più, avendo tutte le carte in regola, sfrutta questa occasione, sei giovane. Giorgio è rimasto piacevolmente colpito dalle parole di Daniele e gli ha promesso di provare a seguire i suoi preziosi consigli, anche se non sarà facile. Intanto, sui sociali fan del GF Vip si stanno chiedendo che cosa avesse voluto dire Daniele con quella frase decisamente preoccupante. Molto probabilmente, Alfonso Signorini tratterà quanto appena successo nella puntata in diretta di lunedì prossimo.